Taranto via Scoglio del Tonno, precisamente siamo in zona Taranto 2, penso che le immagini parlino da sole. Tutta quest'area è importante perché poi porta sino alla Questura, sino ai Vigili del Fuoco e quant'altro, poi ancora più in fondo la Casa di Cura Bernardini. Quindi un'area trafficatissima di Taranto 2. Guardate cosa è successo in questi giorni, sprofondamenti del manto stradale proprio lungo quel tratto che era stato rappezzato. Guardate qui, in presa diretta, proprio il manto stradale sta cedendo, come si vede proprio la spaccatura e ovviamente interviene la polizia locale. L'amministrazione comunale mette la transenna, ma questi mi pare, anzi no, sono lavori di fognatura. L'amministrazione comunale nel momento in cui le ditte fanno i lavori, eseguono i lavori, gli enti eseguono i lavori, l'amministrazione comunale, il settore lavori pubblici non controlla, non controlla. Signori dei lavori pubblici, signori della manomissione del suolo stradale, dovete muovere il culo dalla sedia, lo dovete sollevare, dovete sgambettare per la città, dovete controllare. Perché se no queste cacate continueranno a verificarsi all'infinito, lavori fatti, scusatemi l'espressione di asfalto da parte delle ditte a cazzo di cane, che dopo due o tre mesi sprofondano. E non è un fatto isolato, mi sposto di qualche metro, di qualche metro e tutta, vedete, tutta via Scoglio del Tonno, già qui lo vedete, rappezzi su rappezzi, le ditte fanno i lavori per conto degli enti, gli enti fanno sfasciare e poi se ne strafottono. E insieme agli enti che mandano ditte di quattro soldi, ditte di merda, perché così vanno definite ditte di merda, c'è l'amministrazione comunale che non controlla come vengono fatti questi cazzo di lavori, scusatemi la volgarità. Guardate qui, è normale? Questo tratto, lo vedete, questo pezzo, questo rappezzo, lo vedete, vedete l'asfalto, no? Vedete l'asfalto? Era stato fatto alcuni mesi fa, completamente sprofondato, a distanza di qualche mese. Questo cosa significa? Che sono lavori fatti a cazzo di cane, da ditte di merda. Querelatemi, querelatemi, questa ditta che ha fatti i lavori, è una ditta di merda, perché solo così va definita. E l'amministrazione comunale dove sta? Dorme? L'assessorato dei lavori pubblici dove sta? Non va a controllare i lavori di merda che fanno le ditte? Come si spiega questo fatto? È possibile che tutta via Scoglio del Tonno, basta un po' di pioggia e il banto stradale sprofonda? Guardate qui, ma potremmo arrivare all'infinito. Addirittura qui abbiamo dovuto mettere i blocchi in cemento per indicare ai veicoli, agli automobilisti che non si transita, perché se no veramente si va a finire sottoterra. E qui altre avvisaglie di spaccature di cedimenti sono imminenti. Questi risultano lavori di fognatura. Fatti mesi fa la ditta che ha realizzato i lavori ha lavorato, ha operato in maniera pedestre con i piedi. Guardate un po'. Ditemi voi se questa è una città amministrata. Ditemi voi. Mi suggerisce un cittadino un'arteria principale. Vedete? Qui passano i mezzi dei vigili del fuoco. Per esempio, vi dicevo là c'è il comando dei vigili del fuoco. Guardate come deve passare. Guardate. Ma che cazzo di città è, Melucci? Che cazzo di città? Come cazzo amministri Taranto? Scusatemi le parolacce, ma mi vengono proprio dal cuore. Penso che rappresentino la rabbia dei cittadini che si sono stancati. Si sono rotte le palle dei cittadini di vedere queste situazioni. Ogni santo giorno basta un po' di pioggia. È sprofondo. Andiamo sottoterra. Scusatemi lo sfugo, ma è impossibile vedere una cosa del genere. Io ricevo decine e decine di segnalazioni. Ma vi posso dire che in questi giorni gli abitati giustamente di via Scoglio del Tonno, di Taranto 2, mi hanno sommerso di immagini, di video fatti da loro. Ditte che se ne strafottono e amministrazione comunale che se ne strafotte. Lavori pubblici che se ne strafottono. I controlli non esistono a Taranto. Per questo le ditte fanno i cazzi propri, perché nessuno le controlla.